Buongiorno ragazzi, benvenuti alla dodicesima lezione del corso di Sociologia dell'informazione e della comunicazione. Continuiamo il nostro excursus sulle teorie della comunicazione di massa che penso occuperà questa lezione e forse anche un parte dell'altra. E l'argomento cardine, mi raccomando, studiatelo in maniera approfondita, sempre con quel discorso del mapping generale e generico appunto, e quindi questa capacità di interconnettere le varie teorie. Adesso iniziamo con un aspetto che vi può essere utile, ovvero quello di comprendere quali sono le immagini che nella storia della comunicazione di massa sono state offerte all'utenza. E poi continueremo con le singole teorie. La prima, dovreste già saperla, che è quella del pubblico massa, e la massa è definita come una vasta aggregazione di individui isolati, che non interagiscono fra di loro, anonimi, e accomunati nel tempo da medesimi oggetti di interesse, al di fuori del proprio ambiente personale e del proprio controllo. Un'entità incapace di agire autonomamente, priva di identità e forme di controllo, disaggregata per la sua heterogeneità, si caratterizza per dei rapporti impersonali con la fonte dei messaggi. Ed è quello che ci avevo detto fino adesso. Poi abbiamo la possibilità, anche se poi nelle teorie non è proprio così evidente, comunque di un'altra immagine possibile che quella di folla. La folla è più grande del gruppo ed è spazialmente ristretta in un luogo temporanea e irripetibile nella sua forma. Chiaramente abbiamo due tipi di folle, una folla espressiva, che rappresenta lo sfogo di tensioni sociali e psicologiche, con comportamenti inconsueti, ma che alla base hanno delle credenze eventualmente, e la forma attiva invece sono manifestazioni spontanee, come quelle posto l'arresto di un dissidente politico, che poi possono anche portare a azioni conflittuali e violente. Poi è importante chiaramente continuare l'excursus invece più diretto, citando il concetto di pubblico, di audience e di target. Il pubblico è l'insieme di coloro che possono essere raggiunti dai messaggi di un medium. Quindi tutta l'utenza che potenzialmente può essere raggiunta dal messaggio mediatico. Quindi è una realtà potenziale. L'audience, dall'inglese ascolto, è il pubblico reale che fruisce di un medium, un'entità quantificata e non immaginaria. E l'audience sarà registrato da quelle che noi chiameremo, nella prossima lezione, le ricerche ideometriche del pubblico, che sono ricerche campionarie, basate appunto in campionare e longitudinali, quindi con una continuità nel tempo. Il target, che è un termine che deriva dal marketing, è appunto il pubblico bersaglio, a cui è indirizzato un prodotto che chiaramente è fortemente segmentato in base a caratteristiche sociodemografiche specifiche. Dal target, non possiamo non citare, anche perché voi avete un approccio fortemente economico, il concetto di stile di vita. Lo stile di vita non è, mi piace andare al cinema, conduco una vita serena e tranquilla, come spesso mi spondono gli studenti a lezione, quanto la risultante globale dei valori di un individuo, dei suoi atteggiamenti, delle sue attività, dei suoi comportamenti, delle sue modalità di consumo. Veramente è una realtà trasversale, che include le caratteristiche sociodemografiche, include le abitudini di consumo e socioculturale e ludiche dell'individuo stesso. Quindi è un modo appunto diverso di segmentare la popolazione, sicuramente più articolato rispetto a soltanto dire che la popolazione italiana consta per il 51% di persone di sesso femminile, il 49% per esempio di sesso maschile e via dicendo. E chiaramente analizzare lo stile di vita significa analizzare almeno tre livelli, uno più profondo e stabile, che sono quelli dei valori e dei tratti di personalità, il secondo quello intermedio, ovvero quello degli atteggiamenti, e il terzo quello più periferico, ovvero quelli degli atti di consumo e dei comportamenti. È importante lo stile di vita, perché ormai è sicuramente un agente di segmentazione assolutamente importante nel mercato attuale, e un'importante ricerca che consiglio a tutti quanti di andare a controllare e andare a vedere, è quella di Aurisco, che è chiamata Sinottica, che ogni anno, attraverso dei questionari a un campione molto numeroso di persone italiane, ricostruisce la realtà italiana attraverso 16 segmenti, appunto 16 stili di vita diversi. Per ciascuno stile, Aurisco fornisce il profilo sintetico, i caratteri sociodemografici, i valori individuali e sociali dominanti, le attività prevalenti, le modalità di impiego del tempo libero, gli interessi culturali, i modelli di consumo e lo stile alimentare, l'utenza dei mass media. Poi nelle dispense potete vedere dei singoli esempi di stili di vita che adesso chiaramente non ho tempo di esprimervi. Poi, chiaramente, ritornando al nostro discorso delle possibili immagini che i mezzi di comunicazione di massa hanno dato dell'utenza, quindi del pubblico, passiamo al concetto di gruppo, che è un gruppo normalmente di piccole dimensioni in cui i membri si conoscono e interagiscono tra di loro, consci di avere un comune interesse, quindi una comune appartenenza. Il gruppo sociale è un seme ancora più ridotto di individui che chiaramente condividono dei valori e soprattutto sono caratterizzati da un concetto di continuità nell'evoluzione e questa continuità si basa su schemi di ruolo e di azione. Il ruolo, ricordate bene, è l'insieme di aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordatevo Goffman nella prima o nella seconda lezione. Comunità interpretativa, invece, sono quelle entità caratterizzate da interessi comuni durevoli, da legami reciproci e simili caratteristiche sociodemografiche. Quindi diciamo che la comunità interpretativa è ancora più alla stessa pregnanza del gruppo sociale ma forse la classifica perché dà un indirizzo molto più specifico. E il concetto di massa, invece, ne abbiamo già parlato profusamente. Adesso lasciamo, queste sono un po' le immagini, e torniamo alle nostre famose teorie. La teoria che si apre a noi in questa giornata è la teoria che rientra in quello che è l'approccio importante dello struttural funzionalismo. Chiaramente lo struttural funzionalismo prende in considerazione tre punti fondamentali rispetto allo studio dei media. Anche perché struttural funzionalismo iniziamo veramente a parlare di funzione. E quindi lo struttural funzionalismo vede la società come un organismo in cui ogni parte svolge una funzione prestabilita e quindi si occupa di un certo tipo di problematica. Rispetto ai media, innanzitutto, sono tre i principi fondamentali a cui si ispira questo approccio. Innanzitutto, le relazioni esistenti tra il sistema dei media, quello sociale, quello del pubblico e dei cittadini utenti. Quindi un'analisi delle interdipendenze, delle relazioni. Il rapporto tra l'uso dei media e il contesto culturale entro cui chiaramente si sviluppano culture specifiche e conseguenti generalizzazioni di comportamento e di consumo. E il terzo, la dimensione quantitativa. Quindi modalità e funzioni di utilizzo di diversi mezzi di comunicazione. Quindi c'è un'inversione. Col modello struttural funzionalista ci iniziamo a chiedere non quali sono necessariamente gli effetti dei media, quindi come gli effetti manipolano, come i media manipolano l'utenza, bensì come l'utenza utilizza e strumentalizza appunto questi mezzi di comunicazione di massa. Vi riporto il modello di Weibull appunto in cui effettivamente si può vedere come si interagisce profondamente, come interagiscono profondamente gli individui col sistema dei media e quindi come effettivamente l'esposizione dei media è fortemente condizionata dalle circostanze individuali, dai contenuti dei media, dal contesto sociale e poi appunto dall'orientamento ai media. E poi, invece molto molto importante, chiaramente è un'altra teoria che è una prospettiva che rientra all'interno di questo grande settore della sociologia e quindi introduciamo quella che è la prospettiva degli usi di gratificazione. e a questo punto si passa da realizzare veramente ciò che fanno le persone con i media, quindi come utilizzano le persone nei media. A questo punto ci accorgiamo che stiamo lasciando l'idea di un pubblico massa, di un pubblico un po' in balia dei mezzi di comunicazione di massa per entrare in un pubblico che seleziona le informazioni, i soggetti sono attivi, sono attenti, i fraudatori sono consapevoli dell'uso che fanno dei mezzi di comunicazione di massa, il comportamento è attivo perché è razionale e perché nasce da basi motivanti molto forti e chiaramente è tutto quanto orientato a soddisfare un bisogno. Le motivazioni che sono la base appunto della teoria degli usi di gratificazione dipendono da una serie di fattori legate fondamentalmente alla biografia e alla socializzazione degli individui e le proprie esperienze di consumatori di mezzi, generi e prodotti. Quindi anche le stesse esperienze possono incidere su questo ciclo virtuoso di ripetitività. Appunto perché, alla base di tutto quanto, le preferenze che un soggetto ha oggi sono fortemente condizionate da quello che ha visto, ha ascoltato, ha letto nel passato. Infatti possiamo vedere nello schema che avete nella slide 75, per esempio, che il tutto parte, l'incit parte dalle motivazioni e le esperienze personali che creano e maturano un gusto e un interesse soggettivi, che creano delle gratificazioni attese e che, in base a queste gratificazioni, ci spingono evidentemente al consumo di un certo mezzo di comunicazione di massa. Se questo consumo produce delle gratificazioni, è ovvio che queste gratificazioni creeranno un background, quindi un vissuto, che condizionerà ed eventualmente favorirà la ripetitività o farà uscire da questo ciclo l'utente. Ci sono dei limiti anche rispetto a queste ipotesi, perché in qualche modo non bisogna sovrastimare la razionalità delle scelte e delle decisioni in chiave di consumo, perché a volte le scelte possono essere prese anche per motivazioni deboli, e l'uso dei media è fortemente legato ai contesti, che, se non si ripetono, possono chiaramente portare a un cambiamento del comportamento. Però, sicuramente, non possiamo dire che il pubblico sia passivo, o il pubblico non sappia quello che vuole. Anzi, in questa teoria il pubblico è attivo, e chiaramente le sue scelte sono fortemente legate alla soddisfazione di molti bisogni. Quali sono i bisogni che i media possono soddisfare? Innanzitutto, bisogni informativi. Quindi, noi abbiamo bisogno di conoscere il nostro mondo, non possiamo conoscerlo direttamente, quindi ci affidiamo ai media, che sono la finestra del mondo. Bisogno di costruzione dell'identità individuale, attraverso le fiction, per esempio. Bisogni di affermazione dei valori condivisi, sia quelli tradizionali, come il concetto di famiglia, sia quelli di nicchia, per esempio. Bisogni di relazione, vissuta chiaramente e vicariamente, per esempio con i reality show. I bisogni ludici e evasivi, appunto perché non possiamo nascondere che la televisione deve anche essere un sottofondo, per esempio una radio, un sottofondo amico, oppure proporre anche dei contenuti che rilassano dopo una persona che ha lavorato 10 ore, 8-10 ore al giorno, e ha bisogno anche di un attimo di distensione. All'interno dell'approccio struttural funzionalista, chiaramente, si pone un altro schema importante, che è lo schema di Klaus, dove i concetti chiave sono l'intenzionalità e il convolgimento. Infatti, come potete vedere, lo schema di Klaus, in qualche modo, divide in tre grandi bande, in cinque grandi bande, il consumo dei media, e passiamo da un messaggio offerto, quindi un messaggio potenziale, quindi per se il caldo è limitato, fino ad arrivare agli ultimi due, che sono il messaggio decodificato e quello interiorizzato, dove si parla appunto di un concetto fortemente importante, di come si radicalizza dentro di noi, si interiorizza un messaggio, e quindi fortemente condizionato da qualità di attenzione, grado di impatto e effetto potenziale che questo può avere. E con questo concetto finiamo, chiaramente, voliamo avanti a un altro approccio teorico molto importante, che è quello dei cultural studies. I cultural studies hanno al centro il Center for Contemporary Culture Studies dell'Università di Birmingham, fondata dal 1964. Mentre la scuola di Francoforte aveva Adorno, Orkheimer, Marcuse, come i grandi esponenti, come i grandi esponenti, in questo caso i grandi esponenti sono Hall, Williams e Hogarth. La cultura, quindi il cultural studies, perché sono studi culturali, quindi in qualche modo abbiamo veramente una grande rivoluzione in termini proprio di studi attraverso questo approccio di questi studiosi. Chiaramente il soggetto è la cultura. La cultura non è vista come un patrimonio fisso, bensì come un insieme di processi socialmente e storicamente situati attraverso i quali le persone comuni attribuiscono un senso alla realtà. Quindi la cultura è data dalle pratiche quotidiane. Non per nulla in questo approccio si inizia a studiare veramente la cultura di massa, quindi la cultura popolare, che nelle concezioni che noi abbiamo visto, soprattutto in quella romantica, per esempio, veniva appunto opposta alla cultura di elite, la cultura classica con la cultura popolare che veniva denigrata. Mentre in questo caso veramente i cultural studies si riprendono fortemente questo discorso rilanciandolo in modo opportuno. Dal punto di vista come presupposti teorici i cultural studies si ispirano e filtrano i concetti del marxismo, l'idea del conflitto sociale e poi, secondo loro, riprendono del marxismo il concetto di cultura come riflesso della struttura economica della società. Quindi partono da queste considerazioni per poi, chiaramente, svilupparsi in modo chiaro e autonomo. Secondo loro, una certa forma culturale avviene attraverso un processo di negoziazione e conflitto nel corso del quale le classi dominanti esercitano il potere che deriva dalla loro concezione privilegiata condizione privilegiata mentre le classi subalterne a loro volta però dispongono di possibilità di rifiutare, mediare, modificare o rielaborare ciò che viene proposto loro dalla classe dominante. Quindi, ragazzi, è ovvio che ci troviamo di fronte a una classe dominante che rappresenta l'ideologia dominante e quindi rappresenta in qualche modo chi ha potere chi può creare testi perché poi è il testo l'aspetto fondamentale di Calciola Stavis e chiaramente dall'altra parte abbiamo un'utenza che però si può collocarsi in modo diverso rispetto al rispetto a a questo a questo testo generico. Chiaramente quando parliamo di testi parliamo di qualsiasi testo quindi libro un programma televisivo una pubblicità e chiaramente questo pubblico che è attivo che è chiaramente collocato in un contesto sociale culturale economico storico determinato può intervenire interagire e rileggere questo testo. È ovvio che chi consume è attivo perché sceglie a che cosa dedicare la sua attenzione ritiene la parte dei contenuti che ha compreso e valutato in base a schemi particolari e poi non dipende totalmente dai contenuti significati iscritti dal testo ma può tranquillamente rielaborarli infatti l'utente decide cosa interiorizzare nel calcio da status è importante l'esperienza di fruizione di lettura e quindi di incontro negoziazione tra il testo ricco di possibili interpretazioni e uno specifico lettore in questo nel calcio da status è molto importante perché l'incontro tra il testo e il lettore non è casuale né generico ma è scelto è deciso e oltretutto ha delle cornici dei frame sociali assolutamente definiti e quindi in questo caso il pubblico diventa proprio una comunità interpretativa il modello fondamentale di questa teoria è il modello di Hall il modello comunicativo di Hall che è l'encoding decoding appunto secondo Hall il testo è una produzione un messo in codice di un di un elaborato chiaramente i testi hanno godono di una presenza ideologica forte quindi che viene incorporata in questo in questo encoding in questa messa in atto e il decoding invece sarà la parte invece data data al pubblico che potrà però decidere di collocarsi almeno in tre posizioni determinanti quindi dall'encoding ovvero la messa in codice abbiamo la quindi l'espressione attraverso i testi dell'ideologia dominante abbiamo tre possibili letture quella hegemonica dominante in cui l'interpretazione è identica a quella che l'autore voleva dare la lettura negoziata ovvero che c'è una negoziazione quindi l'interpretazione è parzialmente vicina a quella dell'autore ma se ne discosta per altro mentre quella è oppositiva quando l'interpretazione è completamente antagonista chiaramente ragazzi ci troviamo di fronte a un nuovo modo anche di fare comunicazioni di fare studi perché si punta moltissimo sul metodo qualitativo quindi metodo etnografico interviste in profondità e nasce da qui proprio quella che noi chiameremo tra qualche lezione l'etnografia del consumo dei media e l'analisi di specifiche culture e con questo concludo la lezione di oggi vi ringrazio e vi auguro buono studio